Siamo con il consigliere regionale Fabiano Barbisan, siamo qui a una pizza della sezione della Lega di Pramaggiore. Perdiamo l'occasione per parlare di quello che sta succedendo in questi giorni di un antempo. Lei era in consiglio regionale quando l'acqua è entrata, ma soprattutto cosa sta succedendo a Venezia? E ci può chiarire, visto che lei è un consigliere regionale e la sa direttamente come stanno le cose, su questo mose dove c'è tutta questa polemica e anche due parole sul litorale che probabilmente lei conosce cosa è successo. In maniera anche sintetica dobbiamo pensare ai fenomeni atmosferici. Io mi collego a quello che dicono gli scienziati, il professor Rubia e il professor Zichichi, sono ciclici. Cioè non si fermano, non sono dovuti al fatto che gli umani, gli uomini rovinino l'ambiente, ma chiaramente l'ambiente con la plastica bisogna stare attenti, nel senso va rovinato il nostro mare, vanno rovinati i nostri fiumi, vanno distrutti degli ambienti dove vivono degli animali, pesci e quant'altro. Quindi va curato l'ambiente. Però questi fenomeni non sono dovuti a particolari cambiamenti. Cioè una per tutte, qualche anno fa si parlava del buco dell'ozono, non se ne parla più, si è chiuso, sparito. Era dovuto alla lacca che le signore si mettevano in testa, le bombolette erano dovute, facciamo ridere se pensiamo che dove si usavano le bombolette non era in tutto il mondo, il continente africano chiaramente non si usavano ed è molto più grande dell'Italia, dell'Europa. E quindi va bene, finiamola qua. Il Mose, il Mose è giusto ricordare che è l'unico progetto al mondo fatto così. Non c'era nessuna esperienza, io non voglio giustificare, però il fatto che non funziona e a mio avviso farà molta fatica a funzionare, non posso dire non funzionerà mai, farà molta fatica a funzionare, anche perché in un posto, in una bocca dove il nome che hanno messo i pescatori nella storia si chiama Punta Sabbioni, voglio capire come fanno delle paratie a sollevarsi, ritornare in sede senza essere ingombrate dalla sabbia che il mare muove. Comunque i tecnici risolveranno, io non sono un tecnico, faccio un altro lavoro.